Bentornati con le previsioni a cura di Meteo One. Un blando richiamo umido meridionale favorirà una debole instabilità sui settori ionici e la formazione di nebbie diffuse durante le ore di buio. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo su Puglia e Basilicata per sabato 10 novembre. Al primo mattino nebbie a banchi su arco ionico e zone interne pugliesi. Durante la giornata isolati e brevi rovesci potranno interessare il Tarantino e settori ionici del Salento. Nuvolisità sparsa e localmente nubi basse soprattutto su Puglia centro meridionale e settori ionici lucani. Maggiori spazi soleggiati su Alta Lucania e Foggiano. In serata ritorno delle nebbie diffuse nelle zone interne pugliesi, vali lucane e arco ionico. Per quanto riguarda le temperature stazionarie o in lieveamento i valori massimi localmente punte di 20 gradi su costi adriatiche e Salento. Per i venti deboli venti di scirocco soffioranno su buona parte delle regioni. Per quanto riguarda invece i mari da calmi a poco mossi tutti i mari. E ora andiamo a vedere la nostra foto del giorno. Oggi ringraziamo Dina Benedetto per questa bellissima foto che ritrae dall'alto il caratteristico borgo di Muro Lucano in provincia di Potenza. Inviate la vostra foto del giorno alle nostre pagine facebook e al numero whatsapp. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie dell'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.